Non ero convinto contro i vaccini, cioè io sono un vaccinista assoluto, nel senso che io ho fatto un vaccino anche con i pacchetti, ma per questo vaccino no. Perché questo vaccino no? Perché la settimana scorsa quattro amici sono finiti ricoverati alla Strocchia Unita Pescara, tutti di 50 anni e tutti quanti con la stessa sindrome, con un'ischemia cerebrale che nessuno riesce a spiegare. E' la stessa cosa una nostra amica a Panama, è la stessa cosa una mia amica che mi chiama sabato scorso, io ho ancora il primitio e mi dice chi sei? E io penso che mi stava scherzando, mi vengono i primitio a dirvelo ragazzi, e amici. E ho chiuso la pericolata e mi ho detto guarda Carla per favore se ne parliamo dopo, perché ho già fatto. Mi ha chiamato il marito e mi ha detto ti ha chiamato Carla? Mi ha detto Così.